Con il presidente del Pescara Daniele Sebastiani per commentare Presidente, anche se Zeman magari sorridendo diceva che non era contento al 100%, un bellissimo Pescara, soprattutto nel primo tempo. Beh, sì, primo tempo sicuramente benissimo, poi il secondo tempo è chiaro che quando vinci 4-0 mentalmente pensi anche un po' a gestire, a risparmiare qualche energia che serve perché in questo finale serviranno tante energie, per cui Pescara sicuramente ha fatto un primo tempo bellissimo. Io dico che anche nel secondo abbiamo fatto bene, è chiaro che poi cerchi di gestire un po' la partita, cerchi di risparmiare un po' di energia, però anche nel secondo tempo abbiamo fatto il nostro. Credo che c'è, lo voglio rivedere, ma credo che c'è stato annullato il gol più bello, che era il quinto, per come è stata orchestrata l'azione, però meglio di così. Su 4-0 un gol annullato passa in secondo piano. Sì, però non deve passare in secondo piano, perché se il gol è il gol lo devi dare, quindi non deve assolutamente passare in secondo piano. È il Pescara che voleva il presidente Sebastiani quando con Dell'Icarri avete richiamato Zeman? Questo è? Ma il Pescara credo che sia partito molto bene, anzi benissimo anche con mister Colombo. Poi ci siamo persi un po' per la strada per tanti motivi, le colpe sono sempre in mezzo, quindi non vanno date le colpe all'uno o all'altro. Questa però è una squadra con grandissima qualità e quindi l'obiettivo principale è quello di giocare, di giocare a calcio e di non aspettare nessuno. Poi è evidente che ci sono squadre più forti, ci sono state squadre più forti, vedi Catanzaro, stesso Crotone, che hanno dimostrato in campo di avere qualcosina in più, però noi sicuramente potevamo fare un pochettino meglio. Questo Pescara e play-off se la gioca alla grande secondo il presidente Sebastiani? Se la gioca alla grande non si può dire, perché poi alla fine ci sono tante altre squadre nei tre gironi, squadre organizzate, allestite per vincere. Però questa è una squadra che se la può giocare, poi dove arriveremo vedremo. Una domanda da studio, riferisco io al presidente Sebastiani e poi chiudiamo. Sì, Fabio. No, Enrico, io volevo chiedere al presidente la considerazione che ho fatto prima con Massimo sul fatto che magari col senno di poi, visto che c'era la possibilità di riprendere un allenatore come Zeman, se era il caso di fare il cambio della guida tecnica forse qualche settimana prima, visto che si è perso un po' di tempo secondo me. Ferraresi chiede al presidente Sebastiani se chiaramente col senno di poi era giusto farlo prima il cambio dell'allenatore con l'arrivo di Zeman, visto che si è perso un po' di tempo. Fabio, purtroppo tu lo sai, nel calcio con il senno di poi è sempre facile. Sicuramente per come eravamo partiti questa squadra stava dimostrando di avere le qualità per giocarsela con tutti. Poi ci siamo un pochettino arenati, ci siamo infognati da soli. Poi è arrivato il mister, il mister sappiamo tutti quali sono le sue caratteristiche, le sue qualità. Quando mi dici prima che il mister non era contento, è vero perché l'ho sentito pure io a fine partita, non era contento perché vuole la perfezione, che lavora tutta la settimana per fare certi movimenti, per avere quel tipo di gioco. Evidentemente quando qualcuno non lo fa poi lui si arrabbia ancora di più perché le qualità per farle ce le hanno tutti. Due battute per chiudere, Zeman era anche arrabbiato con Brosco e con Milani per i cartellini gialli, forse con Brosco un po' di più, salterà Taranto, il quarantottesimo forse era inutile quell'intervento. Sì però un giocatore quando è in campo purtroppo non ti puoi limitare, Brosco anche oggi ha fatto una grande partita, ha preso di tutto e di più, per cui il giocatore si sente di fare un'entrata e la fa, non è che puoi essere arrabbiato più di tanto, sicuramente ci mancherà Brosco, ma abbiamo in quel ruolo tanti giocatori bravi per cui credo che non sia il problema dell'uno o dell'altro. Questa è una squadra che come ha detto sempre il mister ha 24 giocatori bravi, per cui se manca Brosco giocherà un altro. Noi abbiamo in panchina in quel ruolo per Lacani, Ingrosso, Boben, giocatori che giocherebbero titolari dappertutto, quindi non credo sia quello il problema. L'ultima con il sorriso, Presidente Sebastiani, ieri abbiamo lanciato una notizia, Verratti che ha chiuso definitivamente con il Paris Saint-Germain e giocherà i play-off con il Pescara. Ieri era il primo di aprile, quindi ci stanno queste cose, sono state tante cose simpatiche che sono uscite ieri, fanno sorridere, almeno da questo punto di vista ci siamo fatti due risate. E un domani? Un domani quando il Pescara sarà dello sceicco si potrà permettere Verratti.